a max ha ballato una stagione ha ballato due stagioni poi dopo si è reso conto che non c'è poter fare altro una vita invece che quello che lavorò lì ed è quello che ha fatto assolutamente in tutta libertà era indispensabile il lavoro di mauro perché max aveva in mente di scrivere una cosa ma la trovava troppo esagerata interveniva mauro gliela faceva scrivere e anzi ci aggiungeva del suo e esagerava ancora di più è stato fondamentale nella scrittura degli otto allora lo facciamo ci vediamo domani mattina o mi raccomando informa è in galva ci vediamo sentiamo ovvia fax o mi telefoni o ti chiamo io ciao ma ok ciao ciao auro o questo saluto non vuol dire niente praticamente già non è o forse vuol dire tutto ciao e qui che finiscono gli 883 come duo è qui che max pezzali inizia il suo viaggio da solista è qui che mauro repetto entra nella leggenda ma questa è un'altra storia o solo della nostalgia dei momenti di gratitudine per 883 quindi mi fa enormemente piacere l'etichetta di ex 883 grazie a tutti